Secondo me forse la Coppa Davis perché la posso condividere con la mia squadra, con la squadra che avevamo lì, che abbiamo giocato, ma con tutte le persone in Italia. Credo che questo ha dato un bel movimento al tennis italiano, che comunque sono tanti che riniziano di nuovo a giocare un po' a tennis. Alla fine questa è la cosa più bella. Io poi personalmente mi ha dato tanta confidenza dopo il torneo a Toronto, a fine anno comunque ho giocato molto molto bene. Ci sono tanti momenti dell'anno scorso, ma nell'altro senso siamo qua a nuova stagione e proviamo di fare bene anche questa stagione. Sono contento di essere qua. L'obiettivo di quest'anno era proprio di andare a caccia, vediamo cosa possiamo prendere. Ci saranno delle settimane dove prendiamo qualcosina in più e delle settimane dove andrà un po' peggio, ma questo è un po' il nostro sport. Io onestamente volevo fare la preparazione più presto possibile, ho avuto poco meno di una settimana di giorni liberi e già mi sono messo a lavorare. Anche perché mi voglio migliorare, voglio fare un'ottima stagione anche questa stagione, quindi sono contento di essere qua, sono contento di sentire nuova la competizione. Ovviamente mi ha fatto bene di andare un po' a sciare, di sentire di nuovo un po' la neve, sto seguendo anche le gare di sci e quindi ovviamente sono contento sia di guardare le gare di sci, ma da parte mia sono contento di essere qua a competere.